Buongiorno, buon lunedì 22 aprile, bentrovati nel nostro Miracle Monday, quindi buongiorno Katia, mi assicuro che mi sentiate, che mi vediate, buongiorno Katia, buongiorno Silvia, vedo dei thumbs up e dei sorrisi e della voglia di iniziare questa settimana, quindi buongiorno, benvenuti, buon inizio, buon lunedì e come sempre ci prepariamo ad accogliere questa settimana, quindi voglio proprio sentire tutta la vostra energia portata qui. Il vero segreto per iniziare è concentrarsi sul qui e ora, quindi lasciamo andare in questi minuti la settimana passata e soprattutto ci prepariamo ad accogliere, a fare spazio per quello che arriverà, per la settimana che sta per iniziare, quindi intenzionalmente ci mettiamo in una posizione di meditazione, quindi ci mettiamo con la schiena dritta, mi interessa molto la schiena dritta e staccata dal supporto, il primo gesto intenzionale, staccata dalla sedia, dalla testata del letto, dal materasso se siete ancora in orizzontale e mettiamo la schiena bella dritta, il resto il corpo intenzionalmente si rilassa, quindi rilassate le spalle, rilassate le braccia, le mani cadono, si appoggiano sulle gambe che possono essere incrociate oppure distese, dritte e chiudiamo gli occhi. sentiamo proprio lo spazio che occupiamo, quindi ci concentriamo sul nostro corpo, sulla sensazione del sentire il corpo, di quello che ci rimanda. e dove sentiamo tensione, intenzionalmente noi andiamo a rilassare, a rilasciare, quindi magari sentite la mandibola che è tesa, è in una posizione di tensione, la rilasciamo, le dita, le anche, le caviglie, il collo, le spalle, la fronte corrucciata. rilasciamo la tensione, e siamo completamente presenti. spalle aperte, petto aperto, in simbolo di accoglienza di questo nuovo ciclo che inizia. accolgo la settimana, accolgo quello che la vita ha da propormi, accolgo me stessa, me stesso in questo nuovo inizio, le mie emozioni. il punto qui è sentirsi, imparare a sentirsi, imparare a sentire se stessi, ancora prima di tutto il resto. quando siamo pronti, torniamo nel nostro meeting. buongiorno, buongiorno, di nuovo, ben trovati. e spero che questi minuti vi abbiano dato un senso di presenza, un senso di voi stessi, per poter iniziare più connessi, più consapevoli di voi. e proprio su questo voglio iniziare con la riflessione di oggi, che vorrei fosse potente per tutta la settimana. e la riflessione parte da questo incontro. mi sono chiesta nell'ultimo periodo cosa rendesse questo incontro così efficace. perché quando crei qualcosa, che sia un incontro online, ma anche offline, quando crei un evento, io questo format non l'ho copiato a nessuno. non c'è una persona che l'ha fatto, che l'ho visto, ho detto, ah caspita che bel format, allora lo vado a fare. un giorno mi sono svegliato e ho detto, voglio fare questa cosa. e ha funzionato. ha funzionato perché sono anni che va avanti e sono anni che funziona. e mi sono chiesta, perché funziona? ci sono tante risposte in superficie, ma io credo che ci sia una risposta in profondità che riguarda ognuno di noi, non riguarda me che conduco il format. la risposta è che quando ognuno di voi, ognuno di noi, partecipa a questo incontro alle 6 di lunedì mattina, mostra il primo segno di libertà nei confronti di se stesso, cioè la libertà di scegliere e non di reagire. io scelgo di fare qualcosa di diverso, che non mi ha ordinato nessuno, che non serve direttamente a niente, cioè non è una cosa che mi ha chiesto il mio datore di lavoro, non è una cosa che faccio per mio figlio, per mio marito, perché devo mettere a posto la casa, è una cosa che faccio per me e scelgo deliberatamente, in modalità non reattiva. la non reazione è il primo passo di qualsiasi cambiamento, perché gli altri, ma anche noi stessi, ci convinciamo, ci convincono, sono convinti che noi siamo in un certo modo, io mangio in un certo modo, agisco in un certo modo, reagisco in un certo modo, quando sono in una situazione sociale sono timida, quando sono in ufficio sono sottomessa, quando sono con un'amica, lei mi vomita addosso tutto, io non riesco ad aprirmi, e così ci creiamo tutta la nostra personalità. In realtà queste poi sono tutte le cose su cui noi agiamo, per essere allineati a quello che gli altri noi stessi pensiamo di noi. Allora, praticare la libera scelta è una fatica, ma è anche una grande libertà. Quando io mi sveglio e decido di far qualcosa di diverso per me, sto praticando una scelta deliberata, non reattiva alla vita. Il primo passo di qualsiasi cambiamento, il primo passo sto dicendo, io stamattina voglio qualcosa di diverso, io questa settimana voglio qualcosa di diverso, io sto creando qualcosa di diverso. E questo ti dà potere, ti fa sentire meglio e innesca un circolo virtuoso. Dove voglio arrivare? Voi direte, va bene, grazie, ce l'ho arrivato anch'io. Voglio arrivare che questo potere non finisce qua, quando c'è qualcuno che vi guida. Banalmente, questa è la fondamenta, il mattoncino, di qualsiasi, qualsiasi piccolo, grande cambiamento che voglio hanno nella nostra vita. Voglio creare qualcosa di diverso. Posso praticare non è tanto l'autodisciplina, ma nel momento in cui lo scelgo è la non-reattività. Di fronte a cinque piatti che mi si pongono davanti, io posso ancora scegliere quello che voglio mangiare, non mangio quello che sono solito a mangiare. Di fronte a qualcuno che mi dice una cosa, posso scegliere un comportamento. Quando entro in ufficio stamattina, posso scegliere di agire in modo leggermente diverso. Pratico la libera scelta. Pratico la non-reattività, perché ci devo pensare, perché voi stamattina siete qui, avete dovuto organizzarvi. Non è reattivo essere qua. Quindi capite che ce l'avete questo potere. Non è una reazione, non è che sono qua perché i casi della vita mi hanno portato qua. Sono qua perché ho scelto. E così come ho praticato la libera scelta per essere qui alle sei del mattino e iniziare in modo diverso, la posso praticare per tutto. Allora, chi fa fatica a cambiare su un ambito della vita, potrebbe provare questa strategia. Invece di dire devo essere disciplinato per il prossimo anno, per i prossimi sei mesi, per la prossima settimana, tutti i giorni devo fare questa cosa affinché si verifichi che, non lo so, avrò la promozione al lavoro, che guadagnerò di più, che dimagrirò, eccetera, è tornare alla giornata e dire ogni giornata ho la libera scelta. Applico la non-reattività. Già accorgermi di fronte a una scelta è praticare la non-reattività e non andare in automatico. Quando mi accorgo di esistere di fronte a una scelta, mi accorgo che quella cosa lì è una scelta e non è un impulso, è consapevolezza. Quando mi accorgo, partite dall'accorgervi. È la strategia più pura di cambiamento. Perché se anche qualcuno vi dice ma tu sei sempre stata così, ma non esiste, non è che siamo fatti con uno stampino. Quanto siamo cambiati nella vita? Quindi pensate di non essere tagliati per il business, per il vostro lavoro, per un progetto. È tutto qua. Smettetela di reagire a questi pensieri e iniziate ad agire in modo diverso, in modo non reattivo. In modo non reattivo. Fa la differenza. Per questo che funziona questo incontro alle 6 del mattino. perché l'essere umano ha bisogno di essere libero. E voi qua state asserendo la vostra libertà, il vostro potere. E vi fa stare bene, ci fa stare bene. Perché anche io a volte, non sempre, ci sono delle volte che sono più stanca, che passo una notte più agitata, più difficile. La mattina quando sono alla sveglia dico vorrei dormire di più. E nel momento in cui scelgo di non dormire di più, sto dicendo qualcosa di più profondo a me. Sto dicendo sei libera di fare qualcosa di diverso da quello che è una reazione. Più una persona è reattiva, più una persona è infelice. Perché stai praticamente, sei una banderuola. Non stai portando avanti niente intenzionalmente. Questa settimana vorrei che ognuno di noi praticasse la non reattività, non su tutto. Sceglietela una cosa, ricordatevi. Di fronte al cibo, di fronte al collega, di fronte a un trigger particolare, di fronte a qualche cosa. Dire io sono libera di scegliere, solo per oggi. Non faccio il patto della vita per sempre. Quella è una cosa che si costruisce col tempo. Il praticare, spesso la non reattività, cosa fa? Innesca il cambiamento. Allora vedi persone che fanno dei cambiamenti di vita incredibili. Semplicemente hanno smesso di reagire su alcuni stimoli, triggeranti, che magari ci hanno messo in testa. Quante madri e padri ci hanno detto tu sei fatta così, sei fatto così, punto. E noi che ci portiamo sulle spalle tutti questi sassi di etichette, di personalità, che ci dicono è vero, sono fatta così ed è per questo che non riuscirò mai a... E vabbè, loro non... l'hanno fatto a volte per esasperazione e quindi lasciamo andare. Però noi sappiamo che questa cosa non è vera, ce lo dice anche la scienza. non siamo... quel detto che nasciamo quadrati e non possiamo morire tondi è veleno per noi. Non è vero. Non è vero questo. Perché se ognuno di voi ve lo dimostro in due secondi andasse a vivere in Cina in un anno avrebbe cambiato da così a così le abitudini. Perché si adeguerebbe a quello che è anche la circostanza, a quello che è l'ambiente. Quindi noi siamo esseri in continua evoluzione. E questo è ovvio. Pratichiamola questa evoluzione. Pratichiamola. Se siete qui la state già iniziando a praticare. Magari qualcuno lo sa di più perché qui magari qualcuno ci si è trovato e dice non so neanche io perché sono qui stamattina alle sei cosa ci faccio qui. Però se siete qui lasciate che questo sia il segno dell'universo questo è il segno che vi sta dicendo ok allora c'è potere non so ancora come ma c'è e questo è l'esercizio che io vi invito a fare esercizio di pensiero esercizio anche di azione durante questa settimana che farò anche io. Esercizio più difficile quando si è più stanchi più demotivati si sta trascorrendo un periodo più difficile quando quindi esercizio che per alcuni sarà più semplice magari chi più energico in questo momento e per altri sarà più difficile ma per chiunque si può praticare anche in piccolissime dosi e fa la differenza e con questa consapevolezza con questo nuovo spunto di pensiero sorrido perché ho visto un cagnolino comparire mi piace tantissimo quando al mattino vedo qualche gatto che compare sugli schermi bambini che arrivano è proprio fa mattina fa che siamo tutti a casa ecco c'è un gatto adesso bellissimo quindi mi piace moltissimo questa cosa ogni tanto sono comparse anche i miei bambini adesso sempre meno perché dormono fortunatamente sempre di più quindi sono più prevedibili quindi con questa consapevolezza ci scriviamo un bello obiettivo per questa settimana qualcosa che è intenzionale è scelto per noi stessi questa settimana che cosa voglio fare che cosa voglio raggiungere qual è quell'abitudine che voglio portare avanti che voglio cambiare e ce lo scriviamo su un foglio o sul cellulare o sul computer o su quello che avete davanti o su Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E di fronte al vostro obiettivo questa settimana vorrei che pensaste, ragionaste a quanto potere c'è da parte vostra, a quanto potere di scelta c'è. Quindi leggetevelo, guardatevelo, guardatevi allo specchio, ragionateci sopra, sentitelo quell'obiettivo e dite io posso, posso scegliere, non deve essere perfetto. Ma io posso scegliere, ce l'ho questo potere. Come ho scelto lunedì mattina di essere lì? Come ho scelto nella vita di fare quella cosa fatta, magari anni fa? Voi sapete che si perde a volte il contatto con noi stessi da più giovani che eravamo così, più in grado a volte di fare le cose. Eppure quella parte c'è ancora. E non c'è nessuno che può dirvi tu sei fatta, tu sei fatto così. Tu non ci riuscirai perché abici. No, non funziona. Però siete voi a dover iniziare a praticare la non reattività, anche solo esserci, essere consapevoli. Ok, qua ho una scelta. Poi magari reagisco, però iniziate da questo, qui io ho una scelta. La mattina quando sono alla sveglia, la prima cosa che vi dovete dire è qui ho la scelta. Non reagisco alla sensazione di stanchezza. Ce l'ho la scelta. Qua la prima volta che ve lo dite cambia tutto. Perché vi state mettendo di fronte alla realtà. Quindi anche di fronte al vostro obiettivo vorrei questo atteggiamento questa settimana. Io sarò la prima perché mi sono fatto un obiettivo di un'abitudine che ho un pochino perso. E che mi manca, che mi fa la differenza. E quindi sarò la prima a guardarmi allo specchio e dire tu puoi scegliere. Non è che se adesso sei più stanca, più affaticata, allora va bene così. Hai la scelta. Cosa dite? Ce lo scambiamo questo 5 per essere stati qui alle 6 del mattino? Al mio 3, mani alzate, chi ha la videocamera e chi non ce l'ha, e ci scambiamo un 5 e ci scambiamo tutta l'energia di questo meraviglioso gruppo via etere. Al mio 3, 1, 2, 3, li voglio vedere, li voglio vedere tutti questi 5, eccoli che li ho visti, li ho sentiti, vedo i sorrisi, vedo l'energia, vedo la voglia di andarsi a prendere la vita, vedo vita. E non apatia, forza, portiamo questa vita anche al di fuori. Io dico sempre che noi facciamo un servizio pubblico, perché poi usciamo di qua, siamo carichissime, persone non capiscono bene, però portiamolo questa carica nei posti dove andiamo oggi, nei luoghi, nelle famiglie. Che ce n'è bisogno? Io vi auguro una splendida settimana, questa del 22 di aprile, perché ogni settimana conta, anche questa, ogni giorno conta, anche oggi, ogni ora conta, si parte da adesso. Buonissima settimana, noi ci vediamo lunedì prossimo, come sempre. Grazie, grazie, grazie per la vostra energia e a prestissimo, ciao!